Musica Con Wall Blanch abbiamo voluto innovare sia nei materiali sia nelle forme partire da dei trend consolidati come quelli della sneaker per poi andare ad innovare con delle borchie microiniettate Nel 2004 inventammo la prima scarpa Indacron che è il materiale delle vele da barca una scarpa senza nessuna suola, quindi una scarpa estremamente comoda e confortevole fatta con un materiale che fino a quel momento non era mai stato utilizzato per le calzature E insistiamo anche sull'utilizzo di materiali più pregiati abbiamo il cervo tuffato, abbiamo delle scarpe in lamina d'alluminio Il mondo dello sport sia nell'uomo sia nella donna La donna la trattiamo sulla zeppa che ci permette di avere un'altezza un po' maggiorata e allo stesso tempo una confortevolezza tipica delle scarpe da tennis iscriviti al canale Grazie a tutti.